squadra nuova vita nuova come sta andando intanto l'inserimento della nuova squadra si è una bella realtà una nuova realtà per ora aspetta che stanno parlando e nulla si sembra davvero un bel progetto sono molto organizzati ovviamente è il primo anno quindi certi automatismi devono ancora crearsi però sì sono felice di questo progetto. Quanta voglia di rivincita c'è in te? Troppa dopo due anni comunque sempre a inseguire una forma buona sempre a dovermi fermare e ripartire così è tanta la voglia di riscatto però questo ciclismo non è mai facile trovare un momento costante senza problemi ed è quello che voglio adesso. Ci potrà essere qualche obiettivo particolare in questa stagione o quello che viene bene? No spero di riuscire adesso a riprendermi bene e poi magari fare un bel ritiro in altura e fare un bel giro di Svizzera che per la squadra è importante perché comunque la squadra appunto è Svizzera e soprattutto è a giugno che di solito col caldo mi trovo sempre meglio. Come funziona il cambio di bici? Bici nuova quest'anno ti sei adattato subito alle misure? Sì 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 come misure sono molto simili a quelle della Ridley poi questa bici è un po' più leggera della Ridley che va l'anno scorso ed è davvero molto aerodinamica già con la Ridley mi trovo molto bene ma diciamo che con questa bici Scott Foil mi trovo ancora meglio in bocca al lupo! Grazie Greg!